La forza devi trovare, come dice Yoda per battarlo, perché sennò non... Allora, c'è un documento. E' fatta, non lo sapranno mai, non lo potranno mai sapere, non capirebbero, non mi perdonerebbero mai, ma sono assicuro, conto solo questo, separazione. E' l'unico modo... Con le sorelle, vabbè, pezzo. Allora... Poi qua c'è... Sì, dovremmo trovare della luce per attivare questo schifo qua. Noi andiamo di qua, perché... Niente, comunque questi giochi alla fine, deve esserci sempre un laboratorio, un rifugio a teatrovi, così, sì. C'è comunque un posto specializzato, dove ci lavorano dei cristiani specializzati, e boh, ci andiamo giù di qua. No, vabbè, ma qua era un rifugio anti-atomico suo, dove lui era una certa, ci ha chiuso la bambina indemoniata, molto semplicemente. Sì, esatto, esatto. Ma qua c'è da tagliare. Quanto lungo però, dai! Madonna! Chi ha dei... Ok. E quindi? Aspetta. Sufficio. Vabbè. Aspetta, qua a destra, a sinistra, troppa roba. Esatto, qua è un po' un bordello. Perché qua ho levato sta roba, ma non ce l'è niente. Vabbè. Ma non ce l'è niente, devi proseguire. Sì, sì, sì. Ah, sì, perché la davanti sono un coglione, ok, va già. Allora... Ce la fai, mamma? Qua? Sì. Mi sembra di perdermi qualcosa che non ne hai idea. Eh, ma infatti io non sto capendo, qua ci sono troppe strade, cazzo. E tra l'altro tutte portanina... Ah, sì? Ma è un po' lagato in basso, non può andare, gli dice che gli piacciono delle immersioni, quelli. Ah, raga, pazzesco. Quanto l'altro è la luce, eh? Ti capisco da l'inizio. Mi direi pazzesco. Mi direi pazzesco. Però... Ehm... Va bene, quindi probabilmente qua si veniva solo per la luce. Va bene. Oh, se senti dei sussurri avvisami, eh, perché io non sento una minchia. Tu dì, io sto... Io sto giocando con L1 attaccato. Però qua è tutto allagato. Non ti dice che tanto dice, non avrei riuscita mai allagata. Ma tanto è andata così, e quindi se a destra c'è la luce... Bisogna andare a sinistra dopo la presa. O dobbiamo tornare... No, indietro non possiamo tornare perché ci seguiva quel bastardo. Non è vero perché ci siamo... Allora... Fammi tornare indietro. Guarda quella luce. Ma io sto girando, sono arrivato nella stanza del generatore per levare via l'acqua. Però dietro, Beppe, c'era una... Ascolta a me. Dietro c'era un altro generatore. Che secondo me a questo punto è una roba secondaria. Dai! Allora torniamo indietro. Io sto tornando indietro. Perché io sono salito... Io sono salito tutto su... Ehm... Qua, guarda qua, guarda qua. X. E ora che l'ho acceso... Mi ha aperto una porta? Non capisco cosa ho fatto. Non capisco cosa ho fatto. L'ho acceso. Perché è un generatore che ho acceso, indubbiamente. Però non capisco cosa fa. Central Room? No. Boh, è collegato a qualcosa, non si sa cosa. Boh, magari serviva... Stavo anch'io indietro. Ah, qua c'è una luce. Magari serviva per andare avanti, eh. Semplicemente, più avanti saremmo dovuti tornare indietro dopo se non tornavamo adesso. Comunque interessante Fauci, come è nato e tutto quanto. Sì. Sì, sì. Ehm... Lei aveva il suo disagio, poi... Cioè, è uscito quando... Stiamo dando per scontato noi che sia nato lì, eh. Cioè, mi sembra che sia dove vanno a parare. Poi... Vediamo un attimino. Ah sì, perché prima la control room era... Era... Era spenta, adesso che mi hai fatto fa' sta roba è accesa. Eh, l'ho, hai visto. Però... Qua cosa devo fare che... Aspetta, perché qua... Cioè, ci sono le istruzioni, eh. Aspetta, qua c'è... No. Un foglio. E quindi... Sì, sì. Comunque è interessante. Lì c'è l'acqua. Esatto. East chambers. Però c'è un... No. C'è un foglio vicino al piano comandi, con degli appunti interessanti, vabbè. Vabbè, io ho attivato una roba qua. Ah, lo fulmino praticamente quando arriva quel bastardo. Bene. Mi sa di sì, sai. Forse non funziona. Aspetta, aspetta. Fammi cercare tutti i fogli. Si, vedi, vedi che... Adesso abbiamo aperto una shortcut. In realtà... L'avremmo potuto fare anche qui, mi sa. Comunque. Allora, quando ci imbattemmo per la prima volta nel luogo, pensai che si trattasse semplicemente di un vecchio bunker tedesco. Un paio di corridoi e qualche provvista scaduta. Dopo un paio di settimane di scave però ci rendemmo conto che il vecchio baffetto doveva avere... Ma perché va giù da solo sto controller di merda? Perché se muovi... Ma che fa... Dopo un paio di settimane di scave ci rendemmo conto che il vecchio baffetto doveva avere grandi piani per questo posto. Un intero sistema di gallerie sotterranee, muri di cemento armato... Non mancava nulla. Ma forse aveva intenzione di costruirsi un rifugio nella foresta, nel caso in tutta quella storia della razza padrona non avesse funzionato. I comunisti fecero quello che sapevano fare meglio, se ne impadronirono. Volevano riconvertirlo in un rifugio antiatomico, installarono persino una rete elettrica. Ma è tutto ciò che fecero. Poi il sogno del Nivas in France. Fortunatamente per me tutta la faccenda era super segreta e io mi sono assicurato che lo rimanesse. Per quanto ne so, quasi tutti quelli che ne erano conoscenza morirono nel massacro. Non lo chiamerei proprio un risvolto positivo, ma poteva andare peggio. Se la situazione dovesse precipitare abbiamo un posto in cui nasconderci. E che massacro? Non è che i massacri sono due. Ah. Che c'è stata... Prima... Che prima c'è stato... Qualcuno... E che quindi Fauci è nato prima, ma poi è andato dalle bambine perché era ancora lì che girava. Esatto. Potrebbe anche essere. Ok. Andiamo in linea. Sì, ma... Adesso sto... Sto mettendo i comandi. Dobbiamo metterle tutte... Tutte va a metà. 1. Blu 1. Giallo 2. Rosso 4. 3 verde. Blu 1. Giallo 2. Rosso. Non vedo un cazzo di colori qua. Allora... Allora... Sto mettendo i comandi con 3 livelli di 15 livello d'acqua. Io devo portarli a metà su queste 3? Cazzo vuoi fare. No, qua dice che i serbatoi di contenimento sono chiusi. Sì. Perchè? Sì. Si alza quello centrale. Però quelli sotto non vanno, quindi... Si alza quello centrale, però quelli sotto non vanno quindi... Ok. Sì. E niente, svuota... Sì. 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 Nooo. Nooo. C'entra il waterfresh Boh, vediamo un attimo Cosa è combinato, tanto Cosa sarei? Cosa sarei? Cosa sarei? Cosa sarei morto Tu mi vedi? Beh, devi svuotare una camera E poi andare sotto a svuotare Ad aprire manualmente i serbatoi Punto Fare una roba per volta Non devi andare a tentativi Ma sempre nel piano comandi, intendi? Sempre farlo da lì Se tu guardi, lei ti dice I serbatoi d'acqua sono bloccati Devo andare a sbloccarli manualmente Svuoti la prima stanza Allagando la seconda E dice, bene, posso andare nella prima stanza No, alla fine Però Ok, sì, sì, ok Probabilmente possa andare al primo serbatoio Facciamo davanti Io non mi è ben chiara, però L'entità Di queste farfalle Oltre a A meccaniche di gameplay Boh, sì, effettivamente Ci sono queste farfalle Anche perché Cioè, c'è anche nel caricamento Cioè, sembra una roba Vedi, comunque La prima tanca qua L'ho fatta Vedi, io Quindi ti fa andare Ti fa scendere giù Vabbè, sembra il caso Di fare sti versi Comunque No, dove sei? Porco Ok, ok Non c'è una valva L'ho fatta Solo che Si è qui in giro Eccola lì Però Però Ascolta Se ti levi dal cazzo Fai un favore Bravo Così Così si fa Ok Ci siamo capiti Dove sono? No Qua? Qua è pronto Per riempirsi d'acqua Dov'è? Ok Quindi adesso Puoi riempire l'acqua Dove tornare su Guarda che bordello Devi fare Gino No Se ascolti me ti levi dal cazzo Ok Bravo Quindi Vengo qua Riempio di nuovo questo L'allago E poi riempio questo Cioè vabbè Si riempie tutta Con metà dell'altra Perché adesso Vabbè Allora Ora quella centrale La domanda però è Niente Stiamo per scoprirlo Adesso devo buttare l'acqua Tutta nel water tank 2 Aspetta Perché insomma Lo fa andare Esatto Però ascolta una roba L'altro serbatoio Dove minchia è? Nella parte iniziale Quando ti diceva giù È allagato Non ci posso andare Quello non era il primo Dalla shortcut Fondamentalmente Dalla shortcut Ok Eh no Il cazzo È allagato È allagato Ma perché vedi Questa qua è quella west Non è quella est Te lo dicevo È quella est Dove minchia est Sarà di qua praticamente Ho capito Ho capito L'ho trovata Mi sa che l'ho trovata No Eh no C'è l'acqua Vai Aspetta vai Questa magari è quella centrale Però East chamber East chamber East chamber Ok Qua c'è scritto No 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 Aspetta Qua cosa c'è scritto C'è scritta una minchia Sembra ci sia scritto east Non si legge Andando verso destra Forse Eh Troverai una roba Che si illumina blu No Dal generatore Aspetta che forse l'ho trovata Aspetta Aspetta Forse sono arrivato Forse sono arrivato Ok Ok Io devo andare dall'altra parte adesso Come tu l'hai fatto prima quella Esatto Esatto Io devo fare questo Ecco perché mi parlavi di farfalle Io dicevo Boh Dove cavolo Perché io l'ho fatta Io l'ho fatta adesso Quando si può andare Deve andare qui Mi hanno Mi hanno ammazzato le farfalle Beh Devi farti scudo con la luce Sì sì Lo so E anche con tutta la luce Mi hanno fatto male Adesso vediamo Manca la valvola raga Sì ma la toglie Ecco E va bene Sfodo di qua E come faccio a raggiungere Quella Vi riuscite Vi riuscite Pazzesco Qua Allora Eh ma non ho il potere Cazzo Come cazzo Ora Second tank Funziona Quindi io devo tornare Nella stanza di controllo Buttare L'acqua Adesso Vomito Mi sono morto Perché ha fatto il coglione Fetta Qui cazzo ci vuole Da parte Beh effettivamente Beppe come cazzo fai A morire Cioè No 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 Lo sento camminare Ma non so dove è Che cosa Che cosa ti sento Che è divertente Ti ho girato la valvola Quella dove eri tu prima Sulla che ho finito il potere E niente Quindi C'era nessuno Come che ti faccio a prendere In Dio No è una merda Sparito Ok Allora Qua ha detto Mentre te Facevi il turettico Di sottofondo Praticamente Ha detto una roba Molto importante Ha detto Prima le due gemelle Poi Ursula E poi lui Ma lui Ma lui è riuscito A scappare Ursula è l'infermiera Quindi l'infermiera È stata dopo le gemelle Non prima Quindi il demone Potrebbe essere Nato con le gemelle Esattamente come ci siamo Detti finora Mostra cazzo Distanze di controllo A trovarla Tutte le volte Io qua Mi sa che Tu quando avevi Quando avevi le Quando hai superato La seconda volta Le farfalle Dopo che hai giotto La valvola Avevi ancora il potere Giusto Te lo puoi ricaricare Il potere Te lo puoi ricaricare Lì Cosa stai dicendo Non lo posso ricaricare Lì Ma sì Fai un viaggio Fai una carica Andata Una carica E' solo che A me mi da Un Mi da tipo Un muro E sdoppiti Perché io vedo Come se non ci posso andare Sdoppiti Porco Hai ragione Sono un coglione Sono un coglione Ok A posto A posto No figurati Quando vuoi Ok Eh Get your ass down Marianne Spaccato il cazzo Voi E fauci Partito qualcosa Che sta succedendo Ragazzi No more No more No more No more No more No more Shame Again Let them look Let them see Let them know Let them feel All right Allora Io sono qua Va bene Che cazzo Mine Non posso sparare La roba Come ha fatto a vedermi È un mistero Della fede Praticamente Sì ma io che cazzo Devo fare Non mi è chiaro Mi sdoppio Mi sdoppio e corro E suca Coglione No 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 Suca Piccio Niente c'è Proprio di dolente Niente Io Ho capito cosa devo fare Molto esidentivo sta parte Molto laboratori Molto Molto bestia Allora guarda cosa devo fare Io mi sdoppio Corro Get back here Porco Poi corro Si Sì Su chiamalo Ciao raga È stato un piacere Fatto Ok Lily Thomas Ah c'è questo che mi rompe il cazzo Tu eri qui Io posso sentirlo Per sentirlo lo sento Però Vabbè qua è tutto Chiaramente Bloccato Andiamo di qua Siamo calmi Un attimo Ecco quello che penso di Tua madre Tua madre Mi ha preso Mi ha preso E per forza Ecco quello che penso di sapere I poteri provengono dallo stesso luogo Ma possono manifestarsi in modi diversi Sembra che lei Esiste in entrambi i luoghi Come se la sua mente possa occupare due corpi allo stesso tempo Per lei Ogni cosa che accade in un luogo influenza l'altro Vede il confine tra i due O sono una cosa sola Nuova ipotesi La morte dirà dal velo tra i mondi Così la mente appena nata Non deve dividersi Ha senso? Forse sì In qualche assurda maniera La morte dirà dal velo dei mondi In maniera che la morte di un nascituro Non debba dividersi Quindi niente Quindi qua ci conferma il fatto che Lui e lei sono diversi Cioè i poteri si manifestano Ma si manifestano in maniera differente Sì esatto Da quello che Vabbè La tessera epic della Bainotti No perché qua ha visto Ha visto due pilloline Ha detto Quante Anche per i miei standard sono tante Te non hai visto un cazzo Non hai visto Dì dire un po' Allora qua Tu dici cosa hai fatto quando la porta E devi fare cerchio fondamentalmente Tra passi D'altra parte Eh ci sono arrivato Cosa che mi piglia Hai corso quella parte lì? Sì ovviamente devi correre Ma è una stronzata È molto semplice cosa devi fare Se vuoi te lo spoiler Dopo un paio di tentativi Lo capisci Eh no Io ci andavo piano piano E no Corre No 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 Devi correre Anzi deve sentirti Boh no Niente va bene raga Il libro delle farfalle Poi Capito Che ci fa Qua Devo farlo prima Cazzo Devo farlo prima No Non fai questo per me Burnto a una crispa Che coglione Perché lo voglio far davanti alla porta Basta che mi sdoppio all'inizio E poi corro Che coglione La porta Ma va Io arrivo fino alla porta Poi schiaccio cerchio Ci metto a tre anni Va subito Devo correre Un po' quella forza Oh madonna Sono il migliore Let me Sono contento Che Faucino sia morto Eh ma si Perché Ma solo perché Gli veniva data Un importante Sfondata dall'interno Raga Perché Perché raga Sfondata dall'interno No perché Niente Qua dove lui teneva Lily Allora Eh boh Campane de Cristo Niente Qua giustamente la messa è finita Ne vanno tutti in pagine Ma non l'hanno ancora capito Che c'è porco Dai dai che ce la faccio Dai Sono finite ste campane Guardate Allora Cerchio per correre Però devo correre più veloce Siamo calmi Siamo calmi Cosa stavo dicendo No perché gli viene data Un'importanza di lore bestiale A Fauci E poi lo ammazzi così Sembra una roba Sì ma poi senso di c'è per me E poi il boss del gioco Fondamentalmente Dobbiamo Levar lui Dai coglioni Eh perché è quello che ha Dato via alle stragi E che ha Beh no Gli altri mostri In realtà si sono creati Da sé No Quelli lì sono altri demoni Eccetera Dato via all'incendio Eccetera Venuto fuori Eh perché giustamente Chissà quanti anni L'ha tenuta nel bunker Qua Però perché noi Vediamo lo spirito Di sta bambina Mica capito Cioè Attenzione Sale Chi avrebbe mai pensato Che fosse così semplice Un po' di alchimia Infusione spirituale Ed ecco fatto A quanto pare Le storie che giravano Erano vere Comunque la stanza è pronta E funziona Funziona davvero Per la prima volta In vita mia Posso sentirmi solo È davvero Miaviglioso Ma raga Ci teneva Lily O ci teneva la sua Controparte spirituale Perché non si capisce Immagina Siamo fermata In questo posto Abbiamo Una nidola O si è chiuso Ma qua parla di Lily Ma quale è il problema Dalla bambina La stanza è piena di sale Abbiamo capito Raga Come le streghe Però Nel senso Praticamente Questa Anacerta Ha bunkerizzato La figlia Perché Aveva sto mosso Dentro Va bene Anacerta Quello là Te lo ricordi Di Francis Che diceva L'ho fatto uscire L'ho fatto uscire Anacerta È venuto qua In qualche maniera Ha dato spazio Al mostro Per liberarsi In qualche maniera Gli avrà aperto La porta Avrà fatto cose Però la porta È sfondata All'interno Adesso sbocco Però cazzo Non va bene Vabbè E una volta Che sono qua Io sto cercando Un Io so cosa Scappato dal tizio Ma ce la farò Vabbè Perfè Nel senso Eh perché Vado contro un muro Quando io mi sdoppio Pento nel Corridoio E continuo Poi a un certo punto Corraccotto il muro E mi piglia Devo girare Subito a destra Cazzo Non c'è Vabbè Io non so Dimmi tu se te lo devo dire Ma è una stronzata È una stronzata Perché io passo 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 la porta Con le spirituale Guarda bene Allora Quando respawni Guarda bene il video iniziale Te lo fa capire Che cazzo devi fare Io se vuoi te lo dico Dimmelo solo Ah lui entra dentro Allora Ah eccolo qua Ah yes Praticamente io corro lì Poi lui entra lì dentro Io schiaccio il cerchio Di esco e vado dritto Bravo Ah cazzo Io ho convinto Che qua devo infilarmi Dentro quel cazzo di coso No 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 Esatto Devi solo fare da esca Fai da esca Con la parte spirituale Poi torni nel corpo fisico E te ne vai a fuori Eh si Poi scappo T'ho fottuto T'ho fottuto Piccio Tenta però Ah shit Too much power Ah devo schiacciar quadrato Però si ho capito Adesso L'ho preso Però C'è stato un momento In cui ho detto Cristo Che cazzo Tanta roba Sì devo fare da esca Poi schiaccio quadrato Io entro E gli sto a girare il culo Eh vabbè Niente Però questa continua a rimanere rossa Mi deve incazzare Adesso Adesso lo faccio Adesso devi farlo Adesso mi ha preso di nuovo Ma Perché Sono il mio Perché qui c'è Doppio schermo Minchia divento piccio Allora aspetta Oh Let there be light Raga Pazzesco Ehi la Questa è la stanza del video Attenzione Facciamo un caffè Perfettino Ok ok Eh giustamente ho schippato un altro dialogo Maledetto Cristo Ora è tutto calmo Siamo solo io e lei Solo io E lei È una strana sensazione Ma positiva È come dovrebbe essere Fare i meglio E godermela finché dura Ho già iniziato a spostare il laboratorio All'hotel Se succedesse qualcosa Non voglio che lei Sia lì vicina Andrò presto a riprenderlo Questa storia può finire solo in due modi O torniamo a casa entrambi O nessuno dei due Lui non ha Chiuso qua La bambina E Lui si è chiuso qua Con la bambina Lasciando fuori Rivestendo tutto di sale In maniera da lasciare fuori La sua parte spiritica E Il Le bestie Varie ed eventuali Fauci Esatto Capito Lui si è chiuso qua Per stare con la bambina Non per fare un dispetto alla bambina C'è Chiaramente per la bambina Risulta un dispetto Ma lui si è chiuso qua Per stare con la bambina Sennò solo lui e la bambina Tenendo fuori le bestie Ho capito Ah Mold Niente qua si è spento il generatore Perché Sono lì dentro Ho toccato il generatore Ma si è aperto tutto qua Direi Logica ineccepibile C'è la muffa Allora è fresca Sì sì È proprio così Camera Sì sì Umidità Non ce n'è Né ha leggiata Vabbè A parte Qua Ci sono dei cessi Però qua Una radio Attenzione E poi Questa è stata la bambina Chiaramente Pepe adesso arrivo Marco Marco Tanta roba Caldo come un boiler Eh non voglio che veda sta roba adesso Eh no Giustamente Perché poi Pepe pepe Però poi qua ci sono le bestie di satana Eh Qua ha acceso la canzone Io sono la stanza di Lily Ma che tal buio Quello che dicevi tu prima Fondamentalmente Ma quanto si sente sta musica Scusate ragazzi Io voglio solo sperare che sta canzone Non abbia copyright Perché vi spacco Fammi andare a spegnere Andate così Comunque Ho acceso le luci Vi attiva la corrente No ma stai calma Fammi leggere tutto Magic Happen Jack Orkan Don't Jack Orkan sono io Cioè sono io È il papà di lei Siamo noi Jack Orkan Sì Jack 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 Ah c'è delle medicine Quello che dicevi Di ma Purtroppo per dimmi Eh cosa stava lavorando Stava cercando a te Tutte e due Probabilmente Sembra abbastanza palese Tutte e due Ipotesi Quando si vive un trauma L'anima può dividersi in due Due entità separate Per cercare di Attenuare i danni Osservazione Le entità possono Rimanere amiche Andare d'accordo O diventare ostili tra loro Come fare per eliminarne Per eliminarne una Senza Uccidere l'altra Ah qua devo trovare I pezzi dello specchio Eh sì Io li ho già trovati A sto punto Ti aspetto Quando li hai trovati tutti Dimmi quando ci sei Perché qua Se no io finisco Vado a The Medium 2 Vabbè io inizio a posizionare Uno Due Mi manca l'ultimo pezzo Sono qui Ma se lo posiziono parte Scazzo E' partito un video Permetti Eh sì E niente Aspetta The moment We finally met Oh Si prolaudio in ritardo, raga porco di...